10 perchetta, ciao Nando Buonasera Duccio, allora come siamo messi? E come siamo messi? Adesso ci si sta preparando Come siamo messi? Ci siamo messi, non ho la vita Ah sì, non ti vedo Ecco, lei non riconosce neanche da dove vieni Da quale parte della Versi la vieni Quindi è un buon esordio diciamo Tra una mezz'oretta cominciamo Ci vuole dire un po' quello che presentate stasera? Stasera di tutto e di più vi presentiamo Vi presentiamo anche un pochino Come è un pochino messo il mondo attualmente Qui abbiamo il ministro che è venuto dall'Africa Burudiddu Allora ci vuoi presentare gli attori? Li presento subito Allora qui abbiamo Alessandro Faini che viene da Tonfano Bene Poi? Poi abbiamo la principessa sul pisare Scusate, la principessa Desiree Navari Che viene da Vittoria Puana No, sì, da Vittoria Puana Vittoria Puana Il bello del... La principessa sul pisare è un confronto Alessio Trombi che viene da Capezzano Ma che Capezzano? Lido Da Livo Lido di Camaione Lido di Camaione E poi ci abbiamo Giù a vendere i libri Ci abbiamo Gabriele Garibaldi Che invece viene da Vallecchia Da Vallecastena Da Vallecastena Testi di? Testi di Lora Santini e di Antonio Meccheri Stasera la regia è più o meno di tutti noi Le scenografie ringraziamo il circolo di rifondazione comunista Ringraziamo soprattutto Nicolás Genovesi che ci ha chiamato a recitare stasera E poi ci rivediamo a fine serata Quindi in bocca al lupo Grazie Crepe il lupo Crepe il lupo Grazie Grazie